Il parere positivo da parte del Collegio delle Visioni dei Conti ci dice che il percorso che abbiamo fatto in questi anni, anche fatto di sacrifici, ci ha consegnato e ci inese a consegnare un comune con dei conti che sono sempre di più a posto, un bilancio che tiene sempre di più. Il Consiglio Comunale di Chieti ha approvato con 15 voti a favore e 9 contrari il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione, gli strumenti ai quali è legata la realizzazione di opere pubbliche per 40 milioni di euro, oltre alla gestione di una serie di servizi, dal sociale alla rifezione scolastica, passando per gli interventi di manutenzione e la raccolta dei rifiuti. Il Covid e le imminenti elezioni per il rinnovo delle sindaco e del Consiglio Comunale rinviate all'autunno a causa dell'emergenza sanitaria non hanno placato le tensioni nella maggioranza di centrodestra. Infatti i provvedimenti non sono stati votati dai quattro consiglieri di Forza Italia che non hanno partecipato alla seduta, svoltasi da remoto e su una piattaforma web. Piuttosto duro, dal centro-sinistra, il commento di Luigi Febo, capogruppo di Chieti per Chieti, il quale ha denunciato soprattutto i ritardi su alcune opere come la riqualificazione di Piazza San Giustino e la ristrutturazione, oltre all'adeguamento sismico, della sede storica del municipio a Palazzo d'Achille, mettendo in luce la crisi di una città che negli ultimi anni ha perso oltre 8 mila residenti. Voto contrario al bilancio è arrivato anche dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dal gruppo Chieti Punto da Capo. Questo bilancio di previsione ci consente di far partire delle opere che da tempo aspettavamo, ci consente di far partire delle gare che attendevano la copertura finanziaria per poter partire, per poter poi arrivare ad aprire cantieri che riguardano infrastrutture importanti per la città, ci consente di chiudere delle gare già avviate, penso a quella per il raddoppio del parcheggio di Via Gran Sasso, per la realizzazione della nuova Scala Mobile, per la realizzazione della nuova Piazza San Giustino e poi devo dire che c'è anche una serie di nuove possibilità grazie all'uscita dall'esercizio provvisorio che vanno anche verso il riconoscimento al personale comunale che ha sottoscritto un nuovo contratto nazionale dopo oltre un decennio di avere quei benefici che fino ad oggi sono mancati.